Ciao ragazze, oggi vi voglio mostrare cosa ho preso dal sito di Paola P per chi mi segue su Facebook già sa di cosa sto parlando perché appena ho ricevuto l'ordine vi ho postato la foto su Facebook ovvero lei, la nuova palette di Paola P India Collection io già avevo l'Africa, appena l'ho vista dal video di Ornella mi sono innamorata perché lei l'ha ricevuta in anteprima essendo la loro blogger ufficiale e non sono riuscita ad aspettare al Cosmoprof perché come sapete lì tutti i loro prodotti sono al metà prezzo ho approfittato dello sconto che c'era per il lancio di questa palette il 20% di sconto e me la sono voluta regalare fortuna vuole che ho ricevuto anche il pagamento di Buzz quindi come vi ho scritto su Facebook ho approfittato sia dello sconto che del pagamento di Buzz per farmi un piccolo regalino ho voluto scegliere l'India anziché quella lì di Juliana perché sinceramente a parte il packaging non mi ha colpito più di tanto ovviamente sapete di cosa sto parlando ovvero la palette che Juliana Make Up The Light ha fatto per Neve Cosmetics i colori sinceramente non li trovo molto ricercati non li trovo originali sono comunque delle tonalità che io francamente già ho quindi e che comunque non uso cioè blu, verdi, arancioni sinceramente non mi è piaciuta questa qui ha dei toni nude cioè ha colori molto caldi come vedete è stupenda è davvero stupenda e poi io un altro giorno che l'ho provata praticamente ho realizzato un trucco solo con questa palette è molto comodo e funzionale perché all'interno contiene anche un ombretto casual che se lo prelevate con un pennello bagnato lo potete utilizzare sia come eyeliner che nella rima interna io non l'ho provato a fare perché portando le lentine ho paura insomma che con le polveri insomma non mi ci trovo bene mi cieco praticamente e quindi lo proverò sicuramente quando avrò gli occhiali sicuramente come eyeliner davvero è fantastico io sono rimasta sconvolta perché davvero ha una pigmentazione altissima e sembra davvero una riga di liner fatta con un eyeliner in gel o un eyeliner in penna o liquido davvero molto molto buona allora vi faccio vedere la scatolina che è bellissima davvero è tutta damascata con la scritta India Collection è made in Italy i loro ombretti sono paraben free e questa palette in particolare ha 3 inci che sono scritti davvero molto molto piccolini però se andate sul sito di Paola P ogni ombretto allora gli ombretti shimmer hanno un inci gli ombretti matte hanno un inci e l'ombretto kajal ha un altro tipo di inci poi dietro come potete vedere ci sono tutti gli ombrettini con i loro nomi davvero molto molto carini c'è Marajá Kamasutra Bollywood molto molto carina allora vi faccio vedere cosa ho trovato all'interno dell'ordine dell'ordine dello scatolino per chi non conosce insomma il brand Paola P la Paola P fa vari prodotti e mi ha mandato queste brochure illustrative io comunque tutti i loro prodotti li conosco perché sono stata al insomma al loro stand l'anno scorso e sono davvero molto gentili sia andata al Cosom prof quest'anno io vi consiglio di passare dal loro stand perché ci sono anche le ragazze che vi fanno provare i loro prodotti insomma potete valutare bene l'acquisto di ogni singolo prodotto infatti c'è il rossetto 24 ore finish matte e il lip for kiss che io l'anno scorso ho provato e mi sono pentita di non aver preso ed è questo qui scurissimo proprio avevo preso questo color binazza molto molto buono poi c'è il lip jewel che è un un lip gloss con tre tonalità di colore è strano che non mi hanno mandato le brochure con le matite le matite labbra e le matite occhi perché sono davvero buonissime a me è stata regalata l'anno scorso sempre in fiera la matita color burro di Paola Pielamo poi c'è il lip bomb che è un lucido labbra trasparente che serve per rimpolpare le labbra e devo dire vedendo anche dalle foto in fiera alcune ragazze che hanno fatto la prova funziona davvero io avendo già comunque le labbra abbastanza grandi non ho deciso di prenderlo per evitare l'effetto silicone tipo canotto poi c'è il giallo skin che è un fondotinta effetto matt che mi ha incuriosito molto infatti sono tentata di metterlo nella lista per il Cosmoprof di quest'anno e non lo so mi incuriosisce ne ho visto qualche blogger che gli hanno mandato l'azienda per recensirlo e ne hanno parlato bene perché davvero è molto coprente come promette insomma poi c'è l'Africa Collection che è questa bellissima palette che ho questa che vedete però è il packaging vecchio adesso il packaging è come la palette india che vi mostro poi c'è il Natural Mascara che è un mascara classico poi c'è il Lash Extender di Paola P che è il loro prodotto top che io purtroppo non ho preso perché ho paura per le lenti a contatto è un prodotto che mi hanno detto che comunque va bene anche per le ragazze che portano lenti a contatto però ho paura perché se le fibre insomma mi vanno negli occhi ho davvero serie difficoltà con le lentine già se mi va un pochettino di trucco provo difficoltà figuriamoci con le fibrette devo provare magari in fiera mi faccio aiutare da qualche ragazza a vedere insomma per l'applicazione e vediamo perché davvero fantastico fa un effetto impressionante ragazzi l'ho visto dal vivo cioè c'erano ragazze che non avevano non avevano manco una ciglia si può dire fa delle ciglia stupende proprio effetto ciglia finte è garantito davvero un prodotto top allora vi mostro subito la palette nuova l'India Collection io l'ho presa con il 20% di sconto l'ho pagata a 31,90 e vi ripeto ne ho approfittato sia dello sconto che del pagamento di Buzz adesso la potete trovare a 39,90 vi faccio vedere la palette questa è la palettina come potete vedere ha un packaging stupendo tutto damascato è lucido con la fantasia damascata matt è davvero molto carina ed elegante secondo me molto compatta e questo dietro praticamente porta l'adesivo con i nomi dei vari ombretti linci e ovviamente i prodotti Pall AP sono Paraben Free non sono testazioni mali questa qui ha una scadenza di 12 mesi bellissima bellissima ve la faccio vedere aperta ha uno specchio enorme cioè enorme pure per un viaggio essendo molto compatto il packaging la potete portare dietro e avete a disposizione uno specchio enorme cioè è bellissima e questi sono i i colori sono abbastanza fedeli comunque devo dire la verità dalla webcam ed è bellissima come vedete forse l'unico che non utilizzerai tantissimo è il bianco shimmer però non importa cioè il resto comunque li andrei ad utilizzare pure questi due che è kamasutra e bollywood pure come blush secondo me sono bellissimi e vi faccio vedere insomma gli swatch che ho fatto qui allora questo è il bianco shimmer un secondo che prendo lo scatolino così vi leggo anche i nomi allora questo è il bianco shimmer che è nirvana poi abbiamo marajà che è questo oro bellissimo io pensavo già di averlo un oro così invece mi devo ricredere è un oro molto particolare che vira quasi al giallo melone è davvero un bel colore molto molto bello poi abbiamo kamasutra che è questo qui si ed è un bellissimo color pesca che potete tranquillamente utilizzare come blush io l'ho utilizzato ed è molto molto carino come effetto mi ricordo un blush che ho nella palette di De Balm la Rockstar palette e insomma è lo stesso colore si può dire solo che nella palette di De Balm ha qualche ha un finish shimmer con qualche pagliuzza oro poi c'è Bollywood che è questo bellissimo colore che è un rosato che va al marroncino molto molto particolare secondo me su tutta la palpebra mobile questo colore sfumato con questi due marroni qui esce davvero fuori una cosa bellissima ed è Bollywood bello è anche come blush secondo me è bellissimo questo poi c'è Sari che è questo marroncino praticamente questo qui che è un marroncino con shimmer con riflessi oro poi abbiamo questo marrone che è sfumato ce l'ho qui praticamente nella piega vira quasi all'arancione è stupendo si chiama Gange ed è super scrivente ed è matt è davvero bellissimo io adoro sia Gange che Dharma che è questo marrone come potete vedere super scrivente sempre che ho sfumato nella piega ed è bellissimo e poi per finire c'è il Devil Kajal questo è l'ombretto nero praticamente asciutto e qui ho bagnato un pennello e per applicarli utilizzo un pennellino flat di questo tipo per fare anche la riga dei liner lo vado a bagnare e vado a creare la linea ovviamente come potete vedere non è perfetta però è per farvi capire che scrive tantissimo come prodotto davvero molto molto valida come palettina davvero bella un po' bella i colori sono molto più caldi di quello insomma che vedete in video la palettina sembra grande dal dal video vi devo dire la verità io infatti vedendo il video di ornitorella mi aspettavo una paletta leggermente più grande ma va benissimo così anzi sono contentissima infatti vi voglio far vedere paragonata a due palette sephora messe insieme come potete vedere la sephora è più grande mettendo due palettine sephora insieme io qui praticamente ho allora waka waka di paola p che hanno tolto per introdurre gli ombretti in questo packaging che sinceramente hanno fatto anche bene perché non è chissà che colore voglio dire ve lo faccio vedere è un color top shimmer infatti lo utilizzo devo dire la verità molto poco rispetto rispetto agli altri eccolo qui e poi vi faccio vedere la la palette insomma di pala p questa ci ho messo tutti i colori chiari questa è l'africa pure bellissima e qui ci ho messo tutti i colori scuri e come potete vedere rispetto all'india non c'entra assolutamente niente la cosa che mi piace di paola p che fa in ogni palette un ombretto che si può utilizzare anche come blush e in questo caso ho questo rosa qui che non mi ricordo il nome io lo utilizzo anche come come blush e mi ci trovo benissimo questa è l'africa di di paola p ed è bellissima anche questa infatti sono contenta di averla di averla presa e niente ragazze questo è quanto per quanto riguarda le spedizioni io mi aspettavo sinceramente un pochettino un po' più veloce come cosa perché ho ordinato venerdì e se non sbaglio venerdì mi è arrivata la palette cioè ci hanno messo un po' perché il mio ordine ho ordinato venerdì me l'hanno spedito mercoledì potete pagare con il contrassegno perché ho avuto problemi con con la scheda e quindi ho preferito pagare il contrassegno con aggiungendo 2 euro e 50 la loro spedizione economica super economica oserei dire perché con il corriere GLS si parla insomma si prendono 2 euro e 50 di spedizione ed è pochissimo secondo me nessun sito ha un prezzo così per quanto riguarda le spedizioni e anche il contrassegno hanno introdotto ultimamente perché hanno aggiornato il sito se non sbaglio è ben molto comodo pure per le ragazze che semmai non hanno la poste non hanno una carta paypal o una carta di credito possono tranquillamente ordinare e pagare in contanti al corriere e niente ragazzi vi mando un bacione forte ci vediamo prestissimo nel prossimo video fatemi sapere cosa pensate di questa palette io sinceramente l'adoro i colori mi piacciono molto di più rispetto a quello di Giuliana perché sono colori che utilizzo di più obiettivamente e niente fatemi sapere ciao ragazze un bacio